Musica Benvenuti al TG10, in apertura del telegiornale oggi c'è la pagina sindacale, vi riferiamo del settino di protesta che si è tenuto oggi dinanzi allo stabilimento Eni di Gela. Gli operai della Sud Elettra chiedono il pagamento degli stipendi arretrati e vogliono certezze sul loro futuro. Sciopero da parte dei dipendenti della società Sud Elettra, gli operai si sono ritrovati questa mattina dinanzi allo stabilimento Eni di Gela, chiedono il pagamento immediato degli stipendi arretrati e soprattutto vogliono notizie certe sul loro futuro. La situazione si è fatta problematica in un momento in cui il settore industriale soffre. Stiamo protestando perché abbiamo problemi per quanto riguarda l'occupazione che attualmente è in corso qua nello stabilimento e il datore di lavoro attualmente ci pone in veri obbligatori non retribuisce i lavoratori con lo stipendio, quindi viene a mancare lo stipendio ordinario alle persone e non si attiva per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali che potrebbe usufruire di cassa integrazione o solidarietà. Preferisce anticipare nuove mensilità per licenziare le persone e non usufruire di questo ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda la crisi attualmente che c'è nello stabilimento, i lavori che al MIS si sono detti che dovranno riprendere, la società attualmente si ostina a porre le persone in mobilità, quindi noi siamo persone danneggiate, quindi non stiamo protestando per danneggiare un'azienda, stiamo protestando perché non possiamo mantenere le nostre famiglie. Ognuno di noi ha delle spese da sostenere mensilmente. A manifestare con gli operai c'era anche Orazio Gauci della FIOMO Cigiella. Oggi c'è un zettino di proteste a due ore di sciopero dalle 10 a mezzogiorno che è relativa ad una serie di ore di sciopero che abbiamo attuato come organizzazione sindacale nei confronti della Sudelettra perché continua nella sua azione di dimensionamento del personale a fronte della proposta nostra di attivazione di uno strumento che potrebbe essere cassa integrazione ordinaria o quello derivante dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi la deroga. Noi siamo per l'occupazione, quindi vogliamo che i lavoratori siano legati all'azienda, rigettiamo con forza questa posizione rigida dell'azienda. Oltre a questo c'è da denunciare che l'azienda da alcuni mesi ritarda nel pagamento degli stipendi o non corrisponde ai lavoratori il giusto dovuto in termini di anticipo di ferie o di indennità di malattia e di altre forme contrattuali. Infatti abbiamo scritto una lettera all'Eni che si sta attivando per cercare di regolarizzare la situazione perché rientra tutto nell'accordo del protocollo di legalità. Gestione dei rifiuti al Comune di Gela. La Commissione bilancio in merito alla proposta di delibera per l'approvazione del debito fuori bilancio che riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dopo aver proceduto all'audizione dei dirigenti Alberto De Petro e Emanuele Tuccio, ha appurato che si tratta di canoni non ancora versati dall'ente. I due dirigenti, scrivono i componenti della Commissione, hanno precisato come al fine di chiarire l'intera situazione economica che riguarda la gestione della servizio necessita verificare l'intero periodo interessato dall'attività della Tecra a partire da giugno 2014. La Commissione, si legge in una nota, ha in più occasioni provveduto alla convocazione formale della dottoressa Patrizia Zalone, dirigente del settore ambiente, nel periodo interessato. Ad oggi però la stessa non ha ancora risposto all'invito della Commissione. La Commissione bilancio ha disposto una nuova convocazione per la Zalone ed ha deliberato di procedere all'acquisizione di tutta la documentazione che riguarda la gestione economica finanziaria del servizio rifiuti dalla data del giugno 2014 ad oggi. E adesso parliamo della sottoscrizione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa e la violazione di domicilio. Si firma anche al Comune di Gela. Anche al Comune di Gela è possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa e la violazione di domicilio. Il testo prevede il raddoppio delle pene per la violazione del domicilio e l'esclusione da responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora, oltre ad ampliare la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell'eccesso colposo. È possibile aderire alla proposta di legge recandosi all'ufficio elettorale per la sottoscrizione dei moduli di adesione. Una proposta di legge è portata avanti da Italia De Valori ma che serve a tutelare quel luogo dove noi ci sentiamo forse più sicuri, che è proprio il proprio domicilio. Fino adesso viene considerata la stregua di un luogo pubblico ma sappiamo che non è così. La casa è il nostro rifugio, è dove cerchiamo protezione e tutela ed è il nostro sagrato dove non è giusto che qualcuno possa entrare impunemente e noi per giunto subirne le cause. Quindi con questo disegno di legge si porta finalmente ad inesprire le pene per chi è che viola il domicilio. Non si pagheranno più i danni per chi dovesse proprio volare il domicilio e poi si fa male quindi oltre il danno la beffa si viene condannato a risarcire il danno a chi è che viene a casa nostra se si dovesse fare male. E terzo, il punto forse molto importante, quello che non ci saranno più reati e nemmeno condanne per chi difende il proprio domicilio da un'infrazione. Anche perché ci sono situazioni istantanee, naturali che sono fuori dagli schemi normali. Uno che si trova la notte, un ladro dentro casa, la reazione non sa nemmeno com'è e certe volte può essere anche drammatica ma sicuramente non l'ha cercato il proprietario della casa. Quindi ritorniamo a stabilire dei concetti fondamentali che la legge sia uguale per tutto ma anche la propria abitazione credo che sia un luogo inviolabile e quindi questo disegno di legge serve proprio per cominciare a dare quelle sicurezze di cui i cittadini hanno bisogno. La petizione è attiva negli orari di ufficio e gli interessati dovranno presentarsi muniti della carta d'identità. Si aggiunge un altro tassello al puzzle che porterà la Sicilia ad avere nuovi confini. Durante i lavori d'aula di ieri all'Assemblea regionale siciliana è stato comunicato l'invio in prima commissione affari istituzionali dei disegni di legge che riguardano le variazioni territoriali delle città metropolitane e dei liberi consorsi siciliani. Tra queste c'è quella che riguarda l'adesione di Gela alla città metropolitana di Catania. Continua inarrestabile l'Ital che porterà dopo 90 anni al cambiamento dei confini dell'ente intermedio siciliano, commenta Filippo Franzone del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. Manca poco. Il passaggio per la votazione all'Ars ed il disegno di legge diventerà dunque legge. Gela, Piazza Merina e Niscemi, uniti ancora di più da questa grande iniziativa, avranno l'opportunità di un futuro migliore da protagonisti in un'area che ha le condizioni per una crescita economica stabile e duratura. Una villetta abbandonata a se stessa è quella di via Redi che vediamo nelle foto, più volte vandalizzata e colma di rifiuti. A presentare una interrogazione per conoscere quali iniziative intende intraprendere l'amministrazione per recuperarla sono stati i consiglieri comunali di Reset 4.0 Luigi Di Dio e Francesca Caruso ed i consiglieri di Forza Italia, Crocifisso Napolitano e Salvatore Scerra. La villetta, spiegano i quattro consiglieri, è diventata ricettacolo di rifiuti. Inoltre i giochi per bambini che erano stati installati non esistono più, mentre uno dei pochi polmoni verdi della città è diventato una palude incolta piena di insetti e topi dove la gente porta i cani a fare i bisogni quotidiani. L'assessore comunale all'istruzione, Ligia Bela, fa chiarezza sul servizio di defezione scolastica. Sentiamo. Polemiche, se vogliamo, fondate forse sotto alcuni punti di vista, ma sicuramente opinabili sotto altre. Noi ci siamo mossi da subito precedentemente e continueremo a farlo proprio per dare modo a questo servizio di trovare la giusta via, la giusta collocazione. I nostri controlli sono stati effettuati precedentemente e continueranno ad essere fatti. Proprio ieri mi sono recata negli istituti dove avviene il servizio di refezione e abbiamo constatato una qualità della carne sicuramente buona, confacente, identica a quella che io avevo assaggiato la settimana scorsa, è facile da tagliare così come si vince da alcune immagini che stanno già girando in rete e altresì abbiamo riscontrato delle piccole criticità come per esempio la possibilità di dare un giro di olio in più nei passi qualora ci fosse servita la pasta in bianco. Queste criticità sono state puntualmente verificate e passate in via informale così come in via informale mi sono state consegnate ai referenti della ditta, i quali mi hanno assicurato che questi accorgimenti saranno apportati. Ovviamente i controlli continueranno non solo così come è stata da parte del Comune di Gela ma anche degli altri organi di controllo come l'ASP, come il servizio veterinaria che hanno già effettuato dei rilievi presso tutti i centri di cottura e che ad oggi non hanno verificato alcuna anomalia. Stiamo cercando proprio di riformare l'intero servizio di mensa perché è chiaro che ci sono delle criticità che negli anni sono state accumulate e che non sono mai state affrontate in maniera seria. Quindi una delle cose che sicuramente mi premerà assicurare per il prossimo anno è quello di creare un organo di controllo fatto anche da genitori che possa, se non con cadenza abbastanza ravvicinata, poter assicurare la qualità dei passi e quindi poter sincerare anche ai genitori che è quello che avviene nelle cucine e insomma tutto molto sereno. I lupetti e gli anziani del gruppo Agesci Gela 4, parrocchia Sant'Antonio, hanno incontrato i poliziotti di Gela con la visita dei principali uffici del commissariato di pubblica sicurezza. Sotto la guida di Laura Romano, funzionario responsabile dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l'incontro ha dato spazio ad un dibattito incentrato sull'attività di polizia, sull'importanza della legalità e della libertà nella vita di ogni bambino e sulla necessità che ogni cittadino contribuisca a garantire il rispetto di principi così importanti. Fare del nostro meglio è il motto di ogni piccolo scout condiviso dai lupetti e dalle coccinelle di tutta la Sicilia nell'ambito di un progetto regionale denominato sotto la stessa legge che auspica l'avvio di un percorso di legalità a stretto contatto con le istituzioni dello Stato. Torna domenica 24 aprile prossimo la festa delle oasi e riserve Lipu con una giornata rivolta a tutti. Una giornata di festa che coinvolge le più belle oasi e riserve naturali Lipu, una rete di 30 aree protette che copre una superficie di quasi 5.000 ettari che accoglie oltre 4.000 differenti specie animali e vegetali ed ospita dai bambini delle scuole ai turisti italiani e stranieri. A Gela l'appuntamento è previsto presso la riserva naturale Biviere che dal 1997 con un impegno quotidiano protegge, preserva e promuove una ricchezza di tutti. Appuntamento dalle 9.30 in poi con la mostra fotografica Un mondo di ali, immagini della vifauna del Biviere di Gela, dopodiché si terrà la liberazione di rapaci ed uccelli acquatici recuperati dal centro recupero fauna selvatica di Ficuzza. Si concluderà il prossimo 14 maggio il progetto Keramos, percorso culturale sulla ceramica di Gela attraverso i secoli. Si tratta di un percorso culturale nel campo della ceramica alla ricerca delle radici storiche di quanto è stato patrimonio della cultura e dell'artigianato locale. È importante risalire alle origini e recuperare quanto ci appartiene anche attraverso il mondo della ceramica che con i suoi reperti ci ha messo nelle condizioni di conoscere le abitudini del vivere quotidiano degli abitanti di Gela sin dalle sue origini. L'obiettivo generale del progetto è quello quindi di realizzare un percorso di impresa sostenibile capace di coniugare sia l'aspetto tecnologico e competitivo con quello creativo e solidale in cui giovani e meno giovani in cerca di prima occupazione provenienti da diverse realtà culturali, sociali e con abilità altre tramite il supporto di correzionisti possono sviluppare e valorizzare le proprie capacità al fine di creare sviluppo. Con i MICOS abbiamo avviato sul territorio un progetto di grande rilievo in collaborazione con Museo Archeologico di Gela, Istituto Liceo Artistico, Liceo Scientifico, Progetto H guidato dall'architetto Pino Valenti, un progetto di grande rilievo che vuole promuovere e valorizzare quella che è la produzione ceramica del territorio, soprattutto nell'ambito greco e medievale. È un progetto che oggi ha visto la partecipazione di un esperto ceramista proveniente dalla Spagna, dalla zona di Cadici, il quale riesce a fare delle riproduzioni utilizzando i metodi più antichi appunto per la lavorazione e per la cottura dell'argilla. Tale progetto proseguirà nei prossimi giorni attraverso delle visite specializzate soprattutto nell'ambito di alcuni musei che si occupano nello specifico di ceramica, andremo a Caltagirone, proseguiremo con le attività al Museo di Gela e si spera che le iniziative appunto di questo Gela non possono coinvolgere sempre di più gli studenti. L'oggettivo di questo progetto che è Ramos è fare ceramica moderna, contemporanea, però con i metodi antichi. Perché? Perché fare ceramica greca, già abbiamo scoperto come si faceva, però già è fatta. Forse questa combinazione può incentivare ai ragazzi che hanno delle inquietudine di fare negozi, di fare cose nuove, può incentivare un po' a fare una cosa diversa e nuova. Un itinerario in bici lungo la piana di Gela per avvistare le cicogne bianche. La FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Nanocicli di Gela, organizza per domenica 24 aprile prossimo il cicogna dei, proprio per gli amanti della natura e del due ruote ecologico. Si tratta di un lungo itinerario cicloturistico della rete Eurovelo che passa proprio nel territorio del comune di Gela, chiamato la ciclovia dei campi geloi, in memoria dell'antica storia del territorio locale. Appuntamento previsto per domenica alle 8.30 con il raduno nei pressi della stazione ferroviaria. Ci fermiamo, linea all'aneggia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Si tratta venerdì 22 aprile alle 18 nei locali della libreria Mondadori in via Marconi 25 a Gela. La presentazione del libro di Salvatore Nicosia dal titolo Pane Amaro. Ne discuterà con l'autore Liborio Mingoya. È attivo già da un paio di giorni il sito del Tribunale per i minorenni. Il portale, visitabile su www.tribunaleminorenni.caltanissetta.it, offre agli utenti la possibilità di reperire moduli, istanze e informazioni in tempo reale, evitando in questo modo di raggiungere gli uffici giudiziari che si trovano in via Domminzoni. Un vero e proprio lavoro di squadra, ha spiegato il presidente del Tribunale per i minorenni, Antonino Porracciolo, frutto della collaborazione dei giudici dell'organo giudiziario in cui è possibile, ad esempio, scaricare la modulistica relativa alle adozioni elaborata dal gruppo coordinato dal magistrato Gabriella Tomai, così come quella relativa alle istanze dirette alla magistratura della sorveglianza affidate al giudice Antonina Sabatino. Cristina Ascalia, magistrato di riferimento per l'informatica del Tribunale per i minorenni, si è invece occupata della supervisione tecnica. È un momento doveroso ovviamente perché viviamo in un'era digitale, nei tribunali si parla di processo civile telematico, ormai gli avvocati e i giudici depositano i rispettivi atti telematicamente, quindi il Tribunale per i minorenni doveva avere il proprio sito. Il nostro portale offre indicazioni su come sono composti i collegi giudicanti, offre indicazioni anche sulle cancellerie, sulla struttura amministrativa e mi piace sottolineare che questo sito è il frutto del lavoro di tutti i giudici di questo Tribunale. Per esempio c'è la modulistica in materia di adozione che è stata elaborata dal gruppo adozioni che è coordinato dalla dottoressa Gabriella Tomai, giudice di questo Tribunale. Alla dottoressa Antonina Sabatino, anche la giudice di questo Tribunale per i minorenni è stato affidato l'incarico di elaborare la modulistica in materia di sorveglianza. E la dottoressa Cristina Scalia, che è il magistrato di riferimento per l'informatica di questo Tribunale per i minorenni, ha provveduto appunto nelle sue competenze specifiche al coordinamento tecnico, alla supervisione tecnica. La grande storia di Mattia Bazzar, appuntamento previsto per venerdì 22 aprile alle 21 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Sul palco si esibiranno l'orchestra ritmico-sinfonica e l'ensemble vocale Oltre Voci, diretti da Paolo Lirosi. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0933 91 18 92. E ora parliamo di calcio. Dopo la promozione in serie D, il Gela comincia a programmare il futuro. Il calcio rappresenta un vero e proprio volano. La promozione del Gela in serie D, conquistata domenica scorsa dinanzi ad un pubblico che non ha uguali, rappresenta tantissimo per l'intera collettività locale. Non c'è soltanto l'aspetto sportivo da evidenziare, c'è dell'altro. Sì, perché lo sport, ma soprattutto il calcio, funge da traino per tutto. E per Gela, in un momento assnegativo in ambito occupazionale, la domenica allo stadio rappresenta una vera e propria valvola di sfogo. Se poi, così come è accaduto per il club biancazzurro, arriva anche la promozione, l'entusiasmo è irrefrenabile. Domenica al Vincenzo Presti abbiamo visto uomini, donne, ragazzini, intere famiglie, tifare per la squadra della propria città. E la maggior parte indossava la maglia del Gela, perché il Gela è la squadra del cuore e la si ama fino in fondo. Dicevamo di cosa rappresenta il movimento sportivo. Un volano per tutto e tutti. Bisogna solo crederci fino in fondo. Con lo sport, oltre ai tesserati, ci lavorano anche quelli che fanno parte dell'indotto. Dunque parliamo di coloro i quali vendono cappellini, magliette, sciarpe, bandiere. Allora aggiungiamo anche chi si ed opera per la vendita di gelati, snack, caffè. È tutto un insieme. Per un attimo adesso immaginiamo cosa accadrà il prossimo futuro. Stiamo parlando di 3D, cioè dire ad un passo dal professionismo. Si giocherà contro squadre che rappresentano capoluoghi di provincia che hanno un glorioso passato alle spalle. Da quelle città arriveranno a Gela tantissimi tifosi e finalmente la gradinata si riempirà. Quest'anno solo in pochissime occasioni abbiamo visto supporters delle squadre avversarie, contati sulle dita di una mano. Poi la desolazione. E arrivando a Gela i tifosi a Gela spenderanno e l'economia potrà respirare. Una goccia in un oceano potrebbe rimarcare qualcuno. Ma intanto l'importante è cominciare. Ma, come ha detto il presidente della società bianca azzurra, Angelo Tuccio, al termine della gara di domenica scorsa, bisogna programmare. L'improvvisazione serve a poco e bisogna lavorare soprattutto in ambito strutturale. E quando si parla di strutture, il riferimento è al campo. Più accogliente è, più prevale la voglia di andarci. In settimana faremo una conferenza stampa per dire la nostra su alcune cose che non vanno come è giusto che sia, per dire la nostra su quello che ci vuole per migliorare le strutture sportive e tutto ciò che ruota attorno al calcio in questa città. Perché è chiaro che vogliamo andare avanti. Tutto questo non vuole che crescere, non vuole che migliorare. Come ho detto, io ritengo che il Gela calcio e il calcio debbano rappresentare una punta di diamante per questa città. Tutto il resto si deve fare, si deve ricostruire. Non dimentichiamo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo gli anni peggiori della nostra storia. Noi vogliamo essere la nota positiva, appunto quella punta di diamante che trascina il resto verso lì di migliori se è possibile. Proseguono gli appuntamenti inseriti nell'ottantaduesima stagione concertistica giolese promossa dall'associazione musicale Giuseppe Navarra di Gela. Domenica 24 aprile alle 19 e 15 nei locali di Palazzo Pignatelli è previsto il concerto lirico con Irene Capodici, mezzo soprano, e Rossella Cardullo, pianoforte. La pagina dello spettacolo è ustica per 35 anni, ti hanno nascosto la verità. Il film in programmazione al Cine Teatro Antitodo di Macchitella a Gela sono tre gli orari, 17.30, 19.30 e 21.30. E sabato 30 aprile alle 21 sarà replicato lo spettacolo Attenti a quei due con Guglielmo Greco, Emanuele Gianmusso e Lori Ardore. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.